Bene, grazie anzitutto del rinnovato invito. Mi stupisco sempre quando mi invitano una seconda volta, poi addirittura una terza volta a parlare nello stesso posto, anche se magari di cose diverse, ma non troppo diverse, perché ricordo che una volta sono venuto qua a parlare di Lucrezio e in un certo senso Bertrand Russell e Lucrezio non sono poi così diversi, o perlomeno ovviamente ciascuno nei suoi tempi, rappresentano un tipo di intellettuale abbastanza singolare, gli intellettuali spesso sembrano fatti con lo stampino, molti sono uguali a tanti altri, invece Lucrezio e Russell sono diversi e soprattutto sono stati diversi da quelli che vivevano nel loro stesso tempo. Se non mi dispiace incomincio a raccontare un aneddoto, perché uno dei motivi per cui parlo di Bertrand Russell è perché sono ormai, credo, più di 50 anni, anzi esattamente posso dire quanti, sono 54 anni che lo leggo e in un certo senso Bertrand Russell mi ha cambiato la vita. Molti lo dicono quando leggono i filosofi, ma in una maniera metaforica, cioè mi ha fatto pensare diversamente. Nel caso mio Russell mi ha proprio cambiato la vita nel senso letterale, nel modo che adesso racconto, perché io sono nato nel 1950, direte chi se ne frega, però 1950, come è stato appena ricordato, è l'anno in cui Bertrand Russell ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Non è quello il modo in cui mi ha cambiato la vita, naturalmente, all'epoca non mi interessavo di queste cose e sono venuto a saperlo, nel senso che io sono nato a luglio e i premi Nobel si danno in autunno, quindi in un certo senso avrei anche potuto venirlo a sapere, però a tre mesi, non erano le cose che mi interessavano. Ma molti anni dopo, nel 1969, io avevo fatto l'Istituto Tecnico per Geometri, perché odiavo il latino, quindi ero andato a scuola dalle suore, nelle medie, che mi avevano inflitto questa lingua barbara, come la chiama Lucrezio tra l'altro, quindi non posso offendere nessuno, nel senso che è lui che diceva questa lingua barbara in cui non posso nemmeno tradurre le cose che dicono i greci e che vorrei raccontare, e quindi mi devo inventare le parole, eccetera. Vi ricordate, questa storia l'abbiamo raccontata la scorsa volta. E quindi dopo aver deciso che non volevo più saperne di latino, ho scelto un istituto, che era quello di famiglia, non nel senso che fosse di proprietà di famiglia, mio padre, i miei zii, eccetera, molti amici, erano tutti geometri. Però arrivato nel 1969, dovevo dare l'esame di maturità, e pensavo che sarei andato a fare l'ingegnere, per un motivo quasi obbligato, perché come tutti sanno, anche quelle che non sanno la matematica, il 1969 viene dopo il 1968, è l'ordine dei numeri, ma la cosa è significativa, perché il 1968, come tutti ricorderete, qualcuno magari personalmente e altri per sentito dire, era stato un momento di grandi cambiamenti. E in particolare, uno dei cambiamenti che avvenne in seguito, ovviamente, sull'onda del 68, fu nella primavera del 1969, la liberalizzazione dell'accesso all'università. Oggi può sembrare strano, perché chi non l'ha vissuto in quei tempi, non si ricorda com'era, ma all'epoca, chi faceva l'istituto per geometri, fino appunto al 1969, poteva solo fare l'ingegnere o l'architetto, se voleva andare all'università. Chi faceva il perito chimico, poteva andare a fare il chimico, e così via. Solo i liceali potevano fare tutte le materie, non sapendolo nessuna, ovviamente, potevano poi scegliere in seguito di rimediare almeno in un campo alla loro deficienza da questo punto di vista. E, in effetti, credo che fosse la primavera del 69, il ministro sullo dell'istruzione aveva fatto questa riforma, in cui si era deciso di andare in qualunque università, intanto poi si è capito cosa sono diventate le università nel 68, il 30 politico, e così via. Io però non avevo cambiato idea, perché era da qualche anno che pensavo a cosa avrei fatto dopo l'istituto per geometri, e pensavo appunto che avrei fatto ingegneria con grande soddisfazione di mio padre, che era appunto un geometra, e che sperava che il suo figlio facesse il gradino successivo, quello che poteva fare. Cosa è successo? Che ho dato l'esame di maturità, e durante l'estate, su una bancarella di libri usati, una volta si compravano così i libri spesso, ho visto, per caso, un libro di Bertrand Russell, che si intitolava Introduzione alla filosofia matematica. E la cosa mi ha colpito, perché matematica sapevo che cosa volevo dire, perlomeno in parte, perché anche a geometri ci insegnavano la matematica, cose utili, ma a geometri non ci insegnavano la filosofia, che veniva considerata appunto qualcosa per i liceali, ma ne avevo sentito parlare dai miei compagni di liceo, appunto gli amici, e così via. E questo abbinamento filosofia-matematica, lui la chiamava così, oggi noi la chiameremo filosofia della matematica, ma comunque all'epoca così si chiamava, mi aveva colpito e quindi ho comprato questo libretto di seconda mano, l'ho letto e ho avuto quello che si chiamerebbe un'epifania, benché fosse luglio, naturalmente, o giugno. Un colpo, diciamo così, e ho detto, ma questa è una cosa meravigliosa, e quello che voglio fare, l'ho detto a mio padre, il quale preoccupatissimo, dice, cosa vuoi fare in matematica? Dice, ma poi come vivrai, perché ti toccherà fare chissà che cosa, non era ben chiaro che cosa fa la professoressa di matematica, ma il professore di matematica. E non c'è stato niente da fare, ho deciso di fare appunto l'università di matematica, non solo, perché poi quando è venuto il momento, dopo due o tre anni, di scegliere la specializzazione, diciamo così, per la tesi, poi ho deciso che volevo fare proprio la logica matematica. E quindi è stato grazie a Russell, e grazie in particolare a quel libro, che non sono diventato un ingegnere, pensate, se fossi diventato un ingegnere, mi sarebbe toccato lavorare, mentre invece sono qua a raccontare di Bertrand Russell, e ho potuto, grazie a lui, fare così. Naturalmente, quello non è stato l'unico libro che ho letto, ne ho letto tanti altri, non tutti, perché a volte uno può amare un autore dicendo voglio leggere tutto quello che ha scritto quest'autore, con Russell è un po' complicato farlo, perché Russell ha avuto una vita molto intensa, diciamo così, è nato nel 1872 ed è morto nel 1970, non è difficile fare il conto, anche qui, è morto a 98 anni, però ha scritto 100 libri, il che significa che almeno in due anni deve averne scritto due, però probabilmente non ha cominciato il primo anno, benché fosse uno molto precoce, non ha a scrivere libri, e quindi effettivamente 100 libri sono difficili, se proprio uno è un fissato, diciamo così, li può leggere, molti sono passati di moda, e alcuni lo erano già quasi subito, infatti lui agli inizi, lungi dall'essere quel pensatore così importante, e poi innovatore che è stato nel corso della sua vita, come tutti i giovani, seguiva le cattive compagnie, era un idealista, l'ha detto di se stesso, come per dire, guardate a che obbrio di bassezza intellettuale era arrivato, era stato idealista. Ha scritto libri praticamente su tutto, infatti il suo primo libro è un libro sulla socialdemocrazia tedesca, uno si aspetterebbe cose di filosofia, o magari di matematica, anche perché poi adesso vedremo meglio, era un logico matematico, quindi a metà tra la filosofia e la matematica, perlomeno quando è partito, e questo è durato poi tutta la sua vita, ad esempio nel 1920-21, quando c'era la guerra civile in Russia, lui andò a fare un viaggio in Unione Sovietica, e arrivò nel bel mezzo della guerra civile appunto, quando si combattevano i bianchi contro i rossi, e riuscì a farsi, era ormai abbastanza famoso, o perlomeno era arrivato con una delegazione in Russia, a Mosca, di parlamentari e comunque di gente vicino al governo inglese, e quindi riuscì ad avere un colloquio con Lenin, che insomma non è una brutta cosa. E poi scrisse un libro naturalmente su questa sua esperienza in Unione Sovietica, è un libro che non vi consiglio, perché ormai è naturalmente molto passato, ed è anche un libro poco generoso nei confronti di Lenin, il quale aveva avuto la pazienza di stare a sentire per un'ora un professore che gli andava a spiegare i paradossi della logica, mentre lui doveva decidere cosa fare sul fronte e all'interno della sua vita. Quindi la produzione di Russell è una produzione sterminata e questa sera parleremo, ci concentreremo su alcuni dei suoi libri, non necessariamente i più importanti dal punto di vista storico, forse ne citerò uno che non vi consiglio di leggere, che anzi si dice che nessuno ha mai letto, nemmeno i due autori, che sono appunto uno Russell e l'altro Whitehead, perché ciascuno aveva letto la parte propria, ma deve leggere proprio tutte e due, sono tre volumoni così, scritti tra l'altro in linguaggio simbolico, quindi una formula dietro l'altra con tutti i riferimenti, era un esercizio come li chiameremo oggi noi di stile, che però è il suo libro forse più famoso dal punto di vista filosofico, per i motivi che dico tra un momento. Dunque Russell, come forse si è capito già da questo fatto, che andava in Russia quando c'era la guerra civile, con una delegazione di parlamentari, era figlio di buona famiglia, suo nonno era stato primo ministro dell'impero britannico, quindi insomma ai massimi livelli, lui era stato educato poi dai nonni, perché aveva perso i genitori molto giovani, da bambino, e i nonni l'avevano appunto preso in casa con sé, e racconta tutte queste cose nell'autobiografia. Io non parlerò questa sera dell'autobiografia, ma chi la vuole leggere è ancora un'opera, anche lei anch'essa sterminata di per sé già, perché sono tre volumi, che coprono ovviamente tre parti diverse della sua vita, però uno che ha vissuto cent'anni, naturalmente l'ha scritta prima di morire, quindi non erano proprio tutti, ma uscì tra il 67 e il 69, lui morì poi nel 1970, quindi quasi alla fine della sua vita. E' una vita in cui ha incontrato, stavo per dire cani e porci, ma non mi sembra un'espressione elegante per l'occasione, comunque gente di ogni genere, appunto gente nel suo campo, tra i filosofi ovviamente, tra i matematici, ma poi soprattutto nell'ultima parte della sua vita, quando divenne un personaggio pubblico e anche molto apprezzato per le idee che aveva, benché fossero idee assolutamente non mainstream, cioè erano idee molto radicali e molto contrarie al pensiero del suo tempo, però appunto anche i grandi della terra incominciarono ad apprezzarlo, soprattutto dopo il 1950, dopo che prese il premio Nobel per la letteratura, soprattutto all'epoca quando uno prendeva un premio Nobel, adesso sono passati altri 50 anni, si sono raddoppiati nel frattempo i premi Nobel, ma rimane pur sempre un evento eccezionale, quindi come diceva Carey Mullins, che è uno dei premi Nobel, in questo caso della chimica, diceva, io l'avevo incontrato una volta, mi diceva, devi capire che quando hai preso un premio Nobel, questo premio Nobel ti apre ogni porta, almeno una volta, cioè se tu chiedi di incontrare il tale, una volta vai a incontrarlo, poi lui decide se nonostante o grazie al tuo premio Nobel puoi continuare anche la seconda volta, ma almeno una volta non ci riesci. E lui racconta in questa autobiografia i suoi incontri con grandi capi di Stato, con personaggi della cultura, eccetera, sicuramente un libro interessante, però non è quello che più rimane della sua eredità, diciamo così, intellettuale. Quello che ho citato agli inizi, cioè questa introduzione alla filosofia matematica, è forse il suo libro più importante dal punto di vista della logica e della matematica, ma non perché sia il libro in cui lui ha per la prima volta esposto le sue idee, le sue tesi, e poi la gente l'ha letta in seguito, ma perché era un libro che arrivava nel 1918 un po' alla fine di questa sua carriera, una carriera che lui è partito come filosofo, ovviamente, infatti viene ricordato oggi come filosofo, però in realtà divenne famoso nel 1902 quando scrisse una lettera a un signore tedesco che si chiamava Gottlob Frege. Frege era un signore molto strano, un matematico che aveva lavorato in Germania, in tedesco ovviamente, a partire dagli anni 80, diciamo così, 1879, fino alla fine del secolo, quindi per una ventina d'anni, lavorando a un progetto completamente isolato, era l'unico che pensava in questi termini, e vi dico brevemente di che cosa si tratta, perché è poi quello che ha dato la fama a Bertrand Russell, questo progetto, si chiamava progetto logicista, nel senso che succede spesso che uno lavora in un campo e poi il delirio di potenza, o di onnipotenza, pensa che il suo campo sia più importante di tutti, quindi dice io faccio questo ed è la cosa più importante del mondo, però Frege aveva cercato anche di dimostrarlo che quello che faceva lui, Frege, era la cosa più importante del mondo, cosa faceva Frege? Studiava la logica, la logica non era un'invenzione né sua né di nessun altro, perché ovviamente risaliva perlomeno all'indietro di duemila anni, il più grande logico occidentale è Aristotele, che tutti voi avete sentito nominare, Aristotele è stato anche lui un altro di questi geni universali che hanno scritto di tutto e sapevano tutto quello che c'era da sapere alla loro epoca, ma in particolare nel campo della logica è stato uno dei grandi innovatori, qualcuno di voi avrà sentito parlare di sillogismi, l'uomo, gli uomini, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, dunque Socrate è mortale, cose di questo genere, Aristotele aveva classificato tutti i possibili sillogismi, si era accorto che ce n'erano 256 tipi, aveva capito che soltanto 24 o 48, a seconda di come si voglia intendere la nozione di validità, erano corretti, tutti gli altri erano sbagliati, e l'aveva fatto a mano, uno dietro l'altro, aveva verificato tutti i casi, e così via. Aveva scritto opere fondamentali che poi sono state messe insieme in un volume collettivo che si chiama Organon, Organon significa strumento, semplicemente, e se voi scrivete un libro che poi diventa famoso perché diventa lo strumento del pensiero, potete essere soddisfatti, ed era composto di sei libri, si studiavano le categorie, per esempio, si studiavano i sillogismi in due libri diversi, e così via. Quindi la logica c'era, ovviamente, però veniva considerata una parte del pensiero, Alcuni filosofi la consideravano fondamentale, in particolare, quello che in realtà la rese più celebre di tutti era Kant, che molti di voi avranno studiato a scuola, la sua critica della ragion pura, è un tomone di molte centinaia di pagine, dipende dall'edizione, ovviamente, se è scritta più grande o più piccola, comunque molte centinaia di pagine, una piccola parte dedicata all'estetica, tutto il resto dedicato alla logica, in varie forme. Quindi era una parte importante della filosofia. Kant viveva alla fine del Settecento, e un secolo dopo, appunto, lavorava questo Frege, verso il 1870, quindi circa un secolo esatto dopo, è interessante questa espressione, circa un secolo esatto, ma i matematici a volte si prendono delle libertà, circa un secolo dopo Kant, e l'idea di Frege era questa, che, in fondo, la logica è il fondamento del pensiero, naturalmente c'è la matematica, che sembra più importante della logica, però l'idea di Frege era, attraverso la logica, si può costruire la matematica a partire dai suoi fondamenti, cioè la logica diventa il fondamento della matematica, poiché poi, la matematica è il fondamento di tutte le scienze, e allora, da quel punto di vista, se l'idea di Frege fosse stata corretta, la logica sarebbe diventata la materia più importante, diciamo, dal punto di vista filosofico e scientifico. Come gli era venuta in mente questa idea? Di dire, ma la logica tratta di cose molto astratte, molto generiche, mentre invece la matematica, per esempio, parla dei numeri, che sono cose molto concrete, come si fa a fondare i numeri, l'idea di numero sulla logica? L'idea di Frege era stata geniale, perché lui diceva, quando noi abbiamo di fronte a noi, per esempio, un cestino con dentro degli oggetti, lui lo chiamerebbe un insieme con dentro degli elementi, come facciamo a sapere quanti sono gli elementi lì dentro? Uno dice, vedi, c'è bisogno della matematica, bisogna sapere se sono cinque, se sono venti, se sono magari infiniti, eccetera, lui diceva no, perché in realtà, quello che veramente ci interessa, quando noi contiamo, per esempio, sponiamo di avere un cestino con dentro tre cose, come facciamo a sapere che ci sono tre cose? Eh, ne tiro fuori una, poi un'altra fa due, un'altra fa tre, e Frege dice, vedi, hai contato, hai detto uno, due, tre, hai preso quei tre oggetti e li hai messi, lui diceva, in corrispondenza bionivoca con altri tre oggetti che tu credi conoscere, che sono i numeri uno, due, tre, no? E lui dice, vedi, in realtà, contare significa semplicemente fare questa operazione, mettere in corrispondenza bionivoca gli oggetti di un insieme, di un cestino, con gli oggetti di un altro cestino, no? E lui dice, la nozione di corrispondenza bionivoca è una nozione puramente logica, non ha a che fare con la matematica, no? E uno dice, sì, però io l'ho messo in corrispondenza con i numeri uno, due, tre, che so che cosa sono. E Frege diceva, sei sicuro di sapere che cosa sono, perché se ti chiedo cos'è il numero uno, per esempio, no? E allora l'idea sua era, il numero uno, insomma, lo possiamo anche definire dal punto di vista logico, dicendo, noi prendiamo tutti gli insiemi che hanno un unico oggetto dentro, no? Li possiamo mettere tutti in corrispondenza bionivoca, non è che uno è più importante che lo chiamiamo uno e tutti gli altri, diciamo che hanno un elemento perché è in corrispondenza con quello, semplicemente sono tutti in corrispondenza fra loro, tutti gli insiemi li possiamo dividere mettendo insieme tra loro tutti quelli che hanno tra virgolette lo stesso numero di elementi e dire che hanno lo stesso numero di elementi vuol solo dire quello, che sono in corrispondenza bionivoca. Sono sicuro che nessuno ha capito molto di questa cosa qua, perché l'ho detta un po' veloce e naturalmente quando le insegnava a scuola queste cose ci vogliono un po' di giorni, settimane e anche in realtà hanno un intero corso di logica, ma questo per far capire che la sua idea era di cercare di parlare soltanto con concetti logici e far vedere come la matematica in realtà si poteva ridurre a questa cosa. Era un bellissimo progetto, infatti lui scrisse vari libri, il primo libro si chiamava L'ideografia, Begrifschrift, in cui aveva inventato un linguaggio che permettesse di lavorare con questi concetti e che permettesse in particolare di fare le cose che aveva fatto Aristotele, di scrivere tutti gli uomini sono mortali, se Socrate è mortale allora, vedete che ha usato queste paroline tutti se allora e così via e questo linguaggio era un linguaggio fatto alla maniera dei matematici però era un linguaggio puramente logico una volta che si era costruito diciamo così questo strumento logico poi Frege aveva detto bene adesso ho lo strumento ho le idee ho capito come le cose funzionano scrivo un libro che si chiama I fondamenti dell'aritmetica un libro che naturalmente poi diventa sempre più lungo quindi lui pubblica il suo primo libro doveva poi esserci un secondo volume e prima di pubblicare questo libro ad un certo punto Bertrand Russell viene a sapere che Frege stava lavorando in questo campo e mentre studiava le cose che Frege aveva già pubblicato gli articoli che aveva pubblicato si accorge di un problemino e questo problemino divenne poi in realtà la sua gallina dalle uova d'oro non ci fu mai più un momento della sua vita un giorno della sua vita in cui lui non raccontò a qualcuno questo problemino che si racconta che si chiama il paradosso di Russell ora invece il paradosso di Russell ve lo posso raccontare perché è una cosa estremamente semplice talmente semplice che questo per fortuna Russell è morto altrimenti sarebbe morto di crepacuore a venirla a sapere l'avevano già scoperto anche altri prima di lui in particolare due o tre anni prima del 1902 l'aveva scoperto un signore che si chiamava Zermelo che lavorava in Germania con altri matematici in particolare con il grande Hilbert che fu poi uno dei grandi filosofi della matematica e uno dei grandi matematici del secolo a cavallo tra l'ottocento e il novecento ma cosa più sorprendente di tutte l'aveva già scoperto Aristotele questo lì questo paradosso e la cosa più interessante di tutte è che nessuno se ne è mai accorto o perlomeno probabilmente chi leggeva Aristotele non sapeva niente del paradosso di Russell chi leggeva le cose di Russell e le cose di logica non sapeva niente di Aristotele e le due cose non funzionavano e io ricordo che un giorno leggendo la metafisica nel terzo libro della metafisica tutti leggono il quarto libro della metafisica che è quello in cui ci sono le leggi dell'essere una cosa non può essere non può avere una proprietà e il suo contrario data una proprietà e una cosa o quella cosa quella proprietà o non ce l'ha c'ha la sua negazione eccetera questo è il quarto libro ma il terzo libro ad un certo punto racconta quello che poi divenne appunto il paradosso di Russell ora il paradosso lui naturalmente l'aveva formulato in una maniera matematica perché era quello che Frege stava facendo in quella che si chiamerebbe la teoria degli insiemi ma io ve lo racconto in maniera più semplice come poi si è capito che si poteva fare in seguito lui stesso fece divulgazione di questo paradosso in tanti dei suoi articoli dei suoi libri e la cosa è semplicemente questa voi prendete gli aggettivi gli aggettivi del linguaggio descrivono delle proprietà rosso bello brutto caldo e così via ogni aggettivo è semplicemente l'espressione di una proprietà ci sono però degli aggettivi che sono fatti in maniera tale che hanno loro stessi la proprietà che descrivono per esempio corto corto vuol dire che è corto però l'aggettivo corto è corto ha cinque lettere notate che l'aggettivo lungo invece non ce l'ha la proprietà di essere lungo perché c'ha sempre cinque lettere quindi è corto anche lui allora abbiamo due aggettivi o due parole corto che esprime una proprietà che lui stesso ha e lungo che invece esprime una proprietà che lui non ha ok e allora Russell ebbe l'idea di dire ah che bello allora adesso prendo tutti gli aggettivi e li divido in due parti da una parte in un cestino ci metto tutti gli aggettivi che hanno la proprietà che essi stessi descrivono non ce ne sono solo due per esempio astratto ovviamente gli aggettivi sono tutti astratti fanno parte del linguaggio quindi astratto e astratto concreto è il contrario concreto è un aggettivo ma non è concreto perché è astratto è un aggettivo capite cosa fanno i logici questi giochi di parole che se uno poi li dice sufficientemente veloci nessuno li segue nemmeno lui però nessuno può nemmeno dire hai sbagliato eccetera e questo è quello che facevo quando facevo lezioni di modo da andare veloci e non farsi prendere in castagna ma allora l'idea di Russell è dividiamo gli aggettivi in quelli che hanno la proprietà che descrivono e quelli che non ce l'hanno abbiamo fatto esempi di uno e dell'altro corto e astratto hanno la proprietà che descrivono lungo e concreto non ce l'hanno però adesso creiamo due nuovi aggettivi che indichino queste proprietà la proprietà di un aggettivo di avere la proprietà che lui dice di avere e la proprietà di un aggettivo di non avere la proprietà che lui descrive come li chiamiamo? li chiamiamo uno poiché si riferisce a se stesso lo chiamiamo autologico e l'altro poiché non si riferisce a se stesso lo chiamiamo eterologico ora la domanda è l'aggettivo eterologico è un aggettivo deve stare da una parte o dall'altra dove sta? ha la proprietà che dice di avere beh se fosse se avesse la proprietà che dice di avere sarebbe autologico invece eterologico allora non ce l'ha ah se non ce l'avesse allora avrebbe quella contraria quindi sarebbe al contrario e questo qualcuno ride giustamente e questo è quello che ha dato il premio Nobel a Bertrand Russell naturalmente l'ho detto in una maniera un po' concisa ma questo giochetto appunto che è un paradosso agli inizi sembrava essere semplicemente uno di quei rompicapo che dice dove sta il problema dove è il trucco lui lo scrisse a freghe il 16 giugno del 1902 gli schisse caro professor freghi ho letto gli articoli che sono riuscito a trovare che lei aveva scritto mi piace molto il fondamento della matematica che lei vuole fare questa sua idea di fondare tutto sulla logica e sulla teoria degli insiemi c'è solo un problema ho trovato questo questo paradosso lui non l'ha espresso in termini di aggettivi perché non ci sarebbe interessato l'ha espresso in termini di insiemi che è un po' più complicato l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene o non appartiene a se stesso e così via e freghe ricevette questa lettera e dieci giorni dopo quando si riebbe dal trauma gli riscrisse che credo fosse il 22-23 di giugno e gli schrisse caro professor Russell e dice niente può sembrare peggio a uno che dedica la sua vita a un'impresa quando riceve la lettera di un pivello ma non gliel'ha detto che aveva poco più di 30 anni aveva esattamente 30 anni perché era 1902 che gli distrugge completamente i fondamenti di quello che lui sta facendo che era cercare di fare i fondamenti invece della matematica attraverso la logica freghe non si riebbe mai più agli inizi pensava che no letteralmente proprio nel senso che pensava di riuscire a risolvere questo problema ci provò per un qualche mese e poi decise che forse era meglio se faceva altro e quindi smise di fare il logico matematico incominciò a interessarsi di geometria e visse infelice e scontento perché ovviamente visse ancora per molti anni per una ventina di anni però distrutto dal punto di vista intellettuale Russell che invece era più giovane era più anziano ovviamente di lui cercò di risolvere diceva ho creato il problema adesso cerco di risolverlo io quindi subito scrisse anche lui un libro che si chiamava dunque come si chiamava quello Principi logici o qualcosa del genere che però era un libro molto lungo in cui praticamente si parlava di questo paradosso con un po' di premesse e così via e poi però capì che bisognava trovare una soluzione a questo problema si mise insieme a quel signore che ho citato prima Whitehead e loro decisero dice scriviamo un libro in cui cerchiamo di costruire i fondamenti della matematica a partire dalla logica come aveva fatto Frege però cercando di evitare questo paradosso e altri che nel frattempo avevano cominciato ad arrivare perché lì è un po' come quando si dà la stura uno arriva con un problema e poi molti cominciano a dire ah ma allora c'è anche questo problema ah c'è anche quell'altro e addirittura le cose cominciarono ad andare tantalmente male agli inizi del novecento che si cominciò a parlare di crisi dei fondamenti cioè si cominciò a dire ma qui la matematica traballa cioè noi pensavamo che la matematica fosse il regno delle certezze dove effettivamente quello che è vero lo si dimostra quello che è falso si dimostra che è falso e così via tutto è perfetto e poi adesso invece cominciamo a vedere che in realtà scusi adesso ho visto ma lei quel signore là è quello che ha letto i pezzi di Lucrezio vero? sì sì lei è rimasto sempre qui in attesa o no? da quel momento no comunque sono contento di rivederla scusate l'intervento è come rivedere un vecchio amico così e adesso naturalmente mi sono distratto dicevo e quindi questa crisi dei fondamenti mise in dubbio addirittura la matematica stessa perché se non c'era nemmeno più la certezza nella matematica che sembrava essere appunto la disciplina più fondata solidamente solo perché uno si era messo in testa l'idea di fondarla sulla logica e le cose andavano veramente male e allora Russell White decisero curiamo noi le cose e per esempio la soluzione che proposerà una soluzione che proposerà è quella di dire ma attenzione però perché noi ci siamo fatti una domanda che forse non dovevamo farci come spesso succede nella vita soprattutto in famiglia eccetera non fa mai farsi troppe domande perché poi uno non vorrebbe venire a sapere le risposte a volte e in quel caso lì l'idea era vedi io mi sono chiesto se lungo è lungo se corto è lungo se corto è corto cose di questo genere se concreto è concreto è astratto eccetera ma quelli sono aggettivi diciamo di primo livello cioè sono aggettivi che parlano delle cose del mondo quando poi ho introdotto io dal di fuori quegli aggettivi che vi ho citato autologico eterologico quelli sono aggettivi pervertiti diciamo perversi nel senso che non parlano delle cose del mondo ma gli aggettivi parlano delle cose del mondo questi sono aggettivi che parlano di aggettivi quindi sono dei super aggettivi si potrebbero chiamare o meta aggettivi stanno a un livello superiore e allora non posso mescolarli come farei con quegli altri e naturalmente a questo punto nel momento in cui io divido gli aggettivi tra primo livello quelle cose che parlano del mondo secondo livello quelli che parlano degli aggettivi terzo livello quelli che parlano di quelli che parlano degli aggettivi e così via si crea tutta una gerarchia che infatti viene chiamata poi teoria dei tipi che ce ne sono ovviamente infiniti e la teoria di Russell e White poi si per esempio usò una stratagemma di questo genere per cercare di risolvere non era l'unico perché c'erano tanti problemi ma questo qui cercarono di risolverlo in quel modo di dire creo una stratificazione del linguaggio in cui le cose più semplici sono quelle che parlano degli oggetti le cose un po' più complicate sono quelle che parlano delle proprietà degli oggetti poi quelli che parlano delle proprietà delle proprietà e così via però le cose diventano molto più complicate di come invece erano nella teoria di Frege certo perché era sbagliata quindi uno poteva fare cosa voleva però la teoria di Frege era molto elegante si basava soltanto su due principi molto semplici il primo principio era che a ogni proprietà corrisponde un insieme che è l'insieme di tutti gli oggetti che soddisfano la proprietà per esempio rosso quella è una proprietà e tutti gli oggetti rossi fanno un insieme che è l'insieme degli oggetti rossi e così via e il secondo principio era di dire quando abbiamo due insiemi l'unica cosa che conta veramente è il fatto che ci siano certi elementi dentro due insiemi che hanno esattamente gli stessi elementi dentro sono lo stesso insieme perché l'unico modo di definire gli insiemi è attraverso le cose che ci stanno dentro questa era la teoria di Frege la teoria di Rasse diventa una cosa molto più complicata e così via che in effetti poi non soddisfa molto dal punto di vista intellettuale ma perlomeno non sembrava dare problemi come quelli che lui stesso e altri avevano trovato quindi loro speravano diciamo beh speriamo che da una parte dentro questa nostra teoria si possono dimostrare tutte le verità della matematica e dall'altra parte non si può dimostrare niente di falso quindi ci siamo chiusi in una botta e non era così bella come quella di Frege agli inizi però perlomeno siamo sicuri abbiamo risolto la crisi dei fondamenti questo libro che loro modestamente intitolarono come quello di Newton perché quando uno dice no ha fatto una cosa che rimarrà esattamente come quella di Newton Newton aveva intitolato i principi i principi della filosofia principi matematici della filosofia naturale il suo libro che aveva cambiato la fisica quando uscì alla fine del seicento Russell and White modestamente lo chiamiamo anche noi principia matematica tanto per far capire che siamo i nuovi Newton della situazione e questo era negli anni tra il 1910 e il 1913 uscirono tre volumi di questo libro che è quello che vi dicevo prima che nessuno ha mai letto nemmeno loro due perché appunto ciascuno leggeva la propria parte poi magari così e nient'altro doveva esserci un quarto volume che non uscì mai perché una volta che uno ha fatto vedere come partono queste cose i grandi libri spesso sono incompleti tu stasera mi citavi perché sono andato a mangiare con lui e con lui si parla sempre di Dostoievski eccetera mentre uno mangia così e ha parlato dei fratelli Karamazov e infatti glielo ho detto diceva quello è un grande romanzo quello non è un grande romanzo quello è il prologo del romanzo infatti Dostoievski l'aveva detto dice ho una bella storia in mente però prima devo diciamo far capire qual è l'antefatto e i fratelli Karamazov sono l'antefatto e poi lui il fatto non l'ha mai raccontato perché nel frattempo è morto eccetera e questo succede ai grandi libri però che vengono considerati così incompleti Essere Tempo di Heidegger per esempio manca tutto il secondo volume e così via la cosa bella sta nel secondo volume ma non ve lo faccio vedere e qui quest'opera divenne diciamo così il riferimento per i fondamenti della matematica non vi racconto la storia come finisce lì vi dico brevemente come andrà a finire perché a noi questa sera interessa parlare di Russell e non di quello che successe alla logica ma siamo nel 1913 quando esce l'ultimo volume stampato dei principi a matematica passano meno di 20 anni e nel 1930 31 un signore che si chiama Gödel un ragazzo di 22 anni che si chiama Gödel che scrive un articolo che si intitola appunto sui sistemi formali della matematica sui principi a matematica e i sistemi formali affini cioè un articolo che parla proprio di questo libro di Bertrand Russell e di Whitehead e Gödel dimostra e dice che non è vero che in quel sistema di Russell e Whitehead si possono dimostrare tutte le verità matematiche e Russell dice come no dice ci abbiamo messo tutto l'impegno tutto quello che noi sapevamo di matematica sembrava che si potesse descrivere all'interno di quel sistema e Gödel dice sì quello che voi sapevate ma ci sono molte più cose che di quanto si immagini la tua filosofia la tua matematica in realtà poi Gödel non è che ce l'avesse con Russell e il suo compagno semplicemente dimostrò che non esistono sistemi in cui si può dimostrare tutte le verità della matematica in particolare quello di Russell è uno di quelli ma dimostrò quello che si chiama il teorema di incompletezza ogni sistema della matematica lo dico in maniera un po' approssimativa se poi qualcuno vuole cose più precise possiamo fare domande dopo oppure vi faccio vi dico libri in cui potete leggere meglio ma detto così in prima approssimazione l'idea di Gödel è proprio quella non ci sono sistemi completi per la matematica ogni sistema quello di Russell ma anche altri che è più potenti altri diversi eccetera sono tutti incompleti perché ci sono delle verità indimostrabili per diciamo così smaltire un po' il trauma di quello che avete appena sentito vi racconto un aneddoto perché qualche anno fa era ancora vivo naturalmente sono andato a intervistare uno e in genere uno va dai vivi ed era il senatore Andreotti che tutti voi conoscerete ed era andato lui era sotto processo di mafia all'epoca e mi ricordo che la cosa era interessante ho detto voglio andarla a intervistare per parlargli dei teoremi di Gödel chiedere a lui che cosa ne pensava e quando sono andato da lui mi ricordo al palazzo Giustiniani anzitutto la cosa lì è interessante perché arrivano e lui mi dice buongiorno professore vuole un caffè io dico la ringrazio non bevo caffè ma comunque forse i giovani non possono capire ma poiché c'erano stati dei precedenti diciamo in cui Andreotti aveva offerto dei caffè a gente tipo Sindona eccetera che è stato anche l'ultimo che hanno bevuto grazie no no io non bevo caffè acqua mi basta e me la porto dietro tra l'altro e dopo i convenevoli gli ho chiesto mi dica ma lei che cosa pensa ai teoremi di Gödel e dice non l'ho mai sentito ha detto guarda io glieli dico in due parole il teorema di Gödel dice che in matematica ma io glielo ho detto in maniera più generale dice che ci sono delle verità indimostrabili e lui sotto processo e dice cosa vuol dire verità indimostrabili mi chiese dice che che si sa e non c'è la prova ha detto è proprio quello e si perché in matematica è così cioè una frase che tu non puoi dimostrare e allora poi ha avuto subito la risposta dice bella roba dice se uno sa come fa a saperlo se non c'è la prova dice e mi ha detto appunto perché poi l'uomo era fatto così dice se io so che qualcuno ha combinato qualche cosa per esempio dico io cose di mafia non vado a prendere il caffè con lui appunto dice era proprio di questo che si parlava dice però non posso per esempio lui dice nel nostro sistema giuridico c'era prima della riforma che avevano fatto loro la soluzione per insufficienza di prove uno veniva accusato di qualcosa si cercava di chiuderlo di trovare la prova non si trovava la prova e uno cosa faceva alla fine dice ti assolvo per insufficienza di prove e che vuol dire io lo so che tu l'hai fatto però non c'ho la prova e ti assolvo perché non ti posso condannare però ti metto un marchio di infamia di modo che la gente sappia che non ti ho assolto perché non hai commesso il fatto ma ti ho assolto perché non ho la prova che l'hai fatto e lui dice scusate questo non si può fare se tu ce l'hai la prova lo contanni ma se non hai la prova non puoi dire ti assolvo per insufficienza di prove e infatti oggi non ci sono più quel tipo di assoluzione ma questo per dire che la logica come vedete è il fondamento di tutto compreso anche il diritto e le questioni politiche quindi Russell e White in realtà fecero questo enorme lavoro che costò loro dieci anni perché tra il 1902 la famosa lettera appunto di Russell a Frege e il 1931 il loro perdono il 1913 quando finirono il libro per dieci anni lavorarono a costruire questo sistema e però perlomeno una parte dei loro obiettivi cioè di costruire un sistema che fosse onnicomprensivo descrivesse tutta la matematica non ci riuscirono completamente ma Gödel dice non è colpa vostra cioè non c'è nessun sistema di quel genere voi non lo sapevate e avete fatto un lavoro che da questo punto di vista era inutile però oggi lo si sa e quindi uno lavora dentro i sistemi che vuole ma sa già a priori che tutte le verità non le può dimostrare Russell però a quell'epoca nel 1931 ormai si era allontanato dalla logica il 13 era stato l'anno di fine di questa scrittura uno dei motivi per cui non uscì mai il quarto volume dei principi a matematica è perché nel frattempo come chi conosce la storia sa era arrivata la prima guerra mondiale guerra mondiale che fu la prima appunto a far intervenire diciamo così tutta l'Europa perché poi il mondo è quello quando noi diciamo guerra mondiale anche adesso si dice la terza guerra mondiale siamo solo noi che la combattiamo però mondiale perché il mondo siamo noi e Russell incominciò a fare altro in particolare lui era matematico era un filosofo però era anche un uomo politico perlomeno come tendenza in parte vi ho detto che era figlio d'arte appunto suo nonno era stato primo ministro della regina Vittoria ma incominciò a fare propaganda pacifista contro la guerra e naturalmente non c'è bisogno che ve lo dica perché ormai è da un anno che noi siamo in guerra volenti o nolenti per finto o per davvero e è molto difficile quando un paese è in guerra parlare contro la guerra avrete visto che coloro che provano a dire per esempio dice non siamo con Putin ma non siamo nemmeno con la Nato ah se non sei con la Nato sei con Putin dico no ho detto né uno né l'altro no cioè questo vuol dire niente da fare non si può fare ora noi siamo per ora soltanto con mezzo piede dentro e mezzo piede fuori come il gatto di Schrödinger dentro la guerra ma quando dovessimo entrare con tutti e due i piedi dentro la guerra ovviamente chi dice che non è d'accordo e quello finisce in galera infatti Russell fece così nel 1918 si era ormai alla fine della prima guerra mondiale lui faceva propaganda per per la come? per la pace per la pace sì certo sì sì volevo dire quello beh no la guerra in Guitera c'era in guerra ma voleva che smettesse di farla e e lui nel 1918 appunto faceva propaganda per la renitenza la leva diceva non ai giovani che veniano coscritti diciamo o chiamate alle armi diceva non andate a combattere eccetera lo presero lo misero in galera però a sentire dai suoi racconti la cosa non era poi così tragica anzitutto lui era un lord appunto no inglese le carceri inglesi per i lord non erano come Guantanamo o come Abu Ghrabi o così via e lui diceva anzi si sta mica male qui dentro no perché tanto per cominciare la sua vita sentimentale cominciava a essere un po' complicata come spesso succede quando invece di avere solo una relazione uno ne ha magari più di una lui in particolare stava con due donne e bisognava giostrarsene un po' così e invece queste due signore andavano a trovarlo in giorni separati in galera poi diceva è un po' come nei transatlantici dice quando uno va a fare una crociera adesso forse non so più tanto di modo forse lo sono di nuovo diventate ma comunque quando uno va questi transatlantici dice va sul ponte poi si accorge che quegli altri passeggeri sono gente noiosa a volte anche un po' stupida dice allora si chiude in cabina e se ne sta lì dentro quindi quella era la sua idea di essere in galera in Inghilterra dice come su un transatlantico in cui non voglio uscire perché i compagni di crociera non mi sono simpatici poi dice non suona mai il telefono tra l'altro questa è un'ottima cosa e allora cosa faccio tutto il giorno mi metto a scrivere e infatti scrisse quel libro che ho citato prima l'introduzione alla filosofia matematica lo scrisse in galera in sei mesi e la sua condanna era appunto di sei mesi alla fine di questo libro dice tra l'altro c'ho un allievo molto dotato che si chiama Ludwig Wittgenstein un tedesco non so nemmeno se sia vivo se sia morto perché non lo vedo dai tempi della guerra ormai e diciamo così l'ironia della sorte era che anche Wittgenstein era in prigione però in Italia questa volta lui si era arruolato volontario l'esatto contrario del maestro che diceva non andate a fare la guerra lui si era arruolato volontario era finito prigioniero a Cassino quindi sul suolo italiano e stava anche lui scrivendo un libro naturalmente il famoso trattato logico filosofico che qualcuno di voi avrà sentito nominare che è una specie di poema sulla logica matematica in cui Wittgenstein sosteneva che Russell aveva sbagliato tutto naturalmente che lui invece faceva tutto giusto e così via non vi racconto però questa storia perché ci porterebbe un po' lontano ma l'idea è tutti e due maestro e allievo erano in galera tutti e due stavano scrivendo libri di logica che poi sarebbero diventati famosissimi Russell esce nel 1918 dalla prigione e praticamente smette di fare il logico l'unica cosa che farà ancora in logica sarà nel 1925 scrivere una seconda prefazione a una riedizione dei principi a matematica poi quando usciranno i teoremi di Gödel lui li leggerà e dimostrerà poi che di non aver capito molto di quello che succedeva ormai aveva perso il contatto diciamo con queste cose anche perché nel frattempo dopo che è uscito mette su famiglia si sposa alzitutto si sposa una prima volta e il matrimonio dura poco ma poi si sposa una seconda volta dunque era aveva 49 anni quindi è facile fare il conto era del 1872 si sposa nel 1921 per la seconda volta con una signora che aveva 22 anni meno di lui insomma questa è una buona scelta lui non aveva nemmeno 50 anni e questa qua non ne aveva nemmeno 30 e comincia a fare figli fa due figli con lei e naturalmente c'ha moglie c'ha figli è vero che era figlio di un lord però diciamo così i quattrini non ce l'aveva perché i possedimenti non li aveva ancora ereditati e quindi deve cominciare a far soldi e che cosa fa uno intelligente colto come lui si mette a fare divulgazione e questo però siamo cent'anni fa quindi antelittera in qualche senso siamo agli inizi degli anni 20 la fisica per esempio di quegli anni è diventata completamente diversa da quella che c'era prima è arrivato Einstein Einstein che ha cambiato la percezione del mondo ha buttato giù dal piedestallo Newton come scrissero i giornali nel 1919 ha cambiato la teoria dello spazio e del tempo e così via questo da una parte dall'altra parte è arrivata la meccanica quantistica già nel 1900 quindi per 20 anni non si capisce più bene come è fatta la materia che cos'è l'atomo eccetera e Russell comincia a scrivere libri di divulgazione scientifica ha già scritto questo libro di introduzione alla filosofia matematica di divulgazione della logica matematica e scrive due libri che ebbero un grande successo all'epoca che si intitolavano l'ABC della relatività e l'ABC dei quanti ora sono due libri completamente diversi perché se voi li leggete oggi uno non vi consiglio di leggerlo quindi fidatevi del mio giudizio ed è l'ABC dei quanti perché quello era l'inizio della teoria dei quanti agli inizi degli anni 20 del 900 non era ancora nemmeno arrivato Schrödinger non era arrivato Heisenberg tutti quelli che noi oggi identifichiamo con la teoria dei quanti erano già nati sì erano lì pronti con la pistola e il proiettile in canna a sparare i loro risultati ma ancora non erano arrivati quindi quello che lui divulga nell'ABC dei quanti sono i rudimenti certo parla un po' di Planck un po' dell'atomo di Bohr eccetera che oggi sono le cose che vi insegnano le prime due settimane a fisica e poi si va avanti con tutto il resto quindi quello è un libro che è completamente passato di moda è fuori moda mentre invece la cosa interessante è che l'ABC della relatività lo potete leggere anche oggi soprattutto se non sapete nulla di relatività perché è una meravigliosa introduzione alla relatività speciale e generale di Einstein che è ancora completamente valida perché la relatività è rimasta quella che era mentre i quanti sono cambiati moltissimo ed è tutto lì che c'è stato il grande progresso dell'ultimo secolo della fisica nella relatività tutto è rimasto come l'aveva lasciato Einstein oddio si sono fatti molti risultati si è andati molto avanti però è tutto un cercare di capire meglio quello che già Einstein aveva fatto gli ultimi premi Nobel vi sarete accorti le onde gravitazionali quello sui buchi neri di Pengrose quello di quest'anno addirittura la costante pardon di due o tre anni fa la costante gravitazionale quello di quest'anno invece sul cosiddetto teorema di Bell sull'entangelo sono tutte cose che aveva fatto Einstein avrebbe potuto prenderne lui sei o sette di premi Nobel la cosa interessante è che gliene diedero uno solo e non di relatività finora praticamente la relatività fino a due o tre anni fa non aveva mai preso un premio Nobel adesso Pengrose l'ha preso per i buchi neri ed è interessante che la teoria è praticamente quella allora se uno legge il libro di Russell ancora trova cose che sono perfettamente sensate anche dal punto di vista di oggi e soprattutto raccontate con lo stile di questo lord inglese che scriveva magnificamente come poi dimostra il fatto che poi appunto prese il premio Nobel per la fisica quindi quello fu un po' una seconda vita di Bertrand Rass la seconda vita di Bertrand Rass come? cosa ho detto? fisica ah va bene poteva prenderli per tutti ma comunque glielo diedero per la letteratura no in realtà non poteva prendere per la fisica no si si scusate per la letteratura però uno scrive sulla relatività scrive sui quanti e poi come manda avanti la famiglia e la cosa interessante è che tanto per cominciare la mandava avanti questa moglie che aveva era una moglie molto più avanti di lui come idee perché era una che stava con lui ma stava anche con un altro il quale stava con un altro cosa comincia a diventare siamo un secolo fa quindi no lei stava con un bisessuale che stava con lei e aveva fatto un figlio con lei e Rassen aveva fatti due sempre con lei ma in momenti diversi e Rassen aveva fatti due sempre con lei ma in momenti diversi ovviamente e insomma la cosa era complicata e allora dice perché non scrivere di queste belle cose anche che possono interessare alla gente e scrisse un altro dei suoi libri famosi nel 1929 che si chiama Matrimonio e Morale ed è un libro che fece drizzare i capelli sulla testa di tutti coloro che ce l'avevano perché quella era l'Inghilterra ancora vittoriana benché non ci fosse più la regina Vittoria ma potete immaginarvi tanto per farvi capire com'era l'Inghilterra molti anni dopo quando Alan Turing l'inventore dei computer fu scoperto essere omosessuale nel 1952 una voce eh ma no mi dica così però scusi come uno che racconta una barzelletta lei dice la fine no 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 non è una barzelletta lo so che è vero certo ma comunque non era l'importante il fatto che si fosse suicidato il fatto è che si era suicidato perché l'avevano arrestato perché aveva avuto dei rapporti omosessuali con un adulto consenziente siamo negli anni 50 dopo la seconda guerra mondiale e in Inghilterra era ancora proibito avere rapporti omosessuali tra adulti consenzienti e che qui siamo 20 o 30 anni prima potete immaginarvi venga qua che così facciamo come come l'altra volta come non dà di corda con le sue scoperte lui che ha inventato è lui che ha inventato lo sa sì sì lo so lo so quattro non sono sicuro che salvare le vite male agli inglesi sia una cosa saggia ma comunque comunque l'ha fatto e quindi gli inglesi sono contenti sono contenti ma questo era soltanto in teoria non c'entra in questa storia era soltanto per dire appunto che anche molti anni dopo l'Inghilterra era ancora molto retrograda e quando Russell scrive questo suo libro effettivamente fa uno scandalo tremendo lui aveva dell'idea appunto in parte erano le idee della moglie che lui doveva trangugiare e poi dice oh queste idee maledetta quella che mi sono sposato eccetera infatti la divorziò poco dopo comunque a dimostrazione e tra l'altro si risposò a 64 anni con una che aveva 42 anni in meno di lui tanto per mantenere l'età della moglie fissa l'età la moglie aveva sempre gli stessi anni lui no andava sempre più avanti e questa è un'ottima cosa non so se abbia a che fare più col matrimonio che con la morale ma alcune di queste idee che c'erano dentro matrimonio e morale erano veramente all'avanguardia per esempio lui diceva ma scusate noi abbiamo i giovani questi giovani sono giovani per definizione e quando si è giovani gli ormoni ci fanno fare venire certi desideri dice per quale motivo dobbiamo imporre loro che per fare certe cose bisogna aspettare fino a quando uno si sposa cioè è proprio il momento in cui sono studenti che non devono sposarsi perché devono studiare e però non devono aspettare a fare certe cose perché è quello il momento in cui le facciano e allora proponeva siamo nel 1929 proponeva quelli che poi divennero noti col nome di Pax o Dico anche cioè matrimoni tra l'altro temporanei dice due studenti si mettono insieme dice io ti voglio bene ti voglio bene facciamo finta che siamo sposati duriamo finché duriamo abbiamo una vita sessuale regolare tra l'altro diceva attenzione non fate figli perché se state studiando quindi anticoncezionali eccetera cose che oggi in Italia soprattutto nell'Italia di oggi proprio di qualche mese fa da qualche mese in avanti sono diventate quasi dei miraggi e lui lo fece tranquillamente appunto diventando quello che tu hai detto prima quello che si chiama un libero pensatore loro lo chiamavano più che altro libertino che è una cosa un po' diversa c'è sempre la radice libero ma con un'accezione diversa e Russell non è più soltanto a questo punto siamo verso gli anni 30 non è più soltanto il grande matematico il grande filosofo ma è anche un uomo politico appunto che è già stato in galera contro la guerra ha le sue posizioni politiche e anche le sue posizioni morali e così via qualche anno dopo Russell è ormai famoso in tutto il mondo perché il suo nome soprattutto nella logica anche grazie ai teoremi di Gödel perché come ho detto Gödel aveva citato addirittura il loro lavoro di Whitehead nel titolo del suo famoso articolo in cui dimostrò il teorema di Gödel quindi gira per il mondo va a fare per esempio un anno in Cina in un tempo in cui la Cina si sapeva giusto che c'era anzi lui l'aveva detto di Hegel quando leggendo Hegel Hegel aveva detto a un certo punto che l'essere sapete che loro parlano di queste cose i filosofi anche molti di quelli che vengono qui su questo tavolo o a questo tavolo forse sul tavolo sul tavolo quando devono dire l'essere lo dicono in piedi sul tavolo e Russell aveva detto sì certo Hegel dice che l'essere è come la Cina perché lui è che l'unica cosa che sa della Cina è che c'è e quindi per forza le deve mettere insieme e gli sembra che siano la stessa cosa invece lui Russell in Cina c'è andato appunto noi in quegli anni lì quando appunto la Cina era appena uscita dalla fine dell'impero dopo la caduta nel 1911 dell'ultimo imperatore ed era il momento dei signori della guerra e così via e quindi pensate anche fare questi viaggi che ancora oggi per noi andare un anno in Cina non è una cosa così immediata è una conoscenza così diffusa e invece lui li fece naturalmente scrisse anche libri sulla Cina e così via quindi diventò ormai una persona un intellettuale a tutto tondo ad un certo punto arriva la fine degli anni 30 e lo invitano in America naturalmente lui è anglosassone quindi basta che guai che guai ebbe ma no ma questo è il mio suggeritore lei si deve mettere qui dentro dentro la scatola qua sotto perché dice chi? per Giacomo no per Giacomo no e lo so ma lo scrivo io ma lo ricordo me lo ricordo ah tu ti preoccupi che non mi ricordi le cose che ho scritto la logica del novecento ah bravo 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 e lo vedo io no ma e infatti me li ricordo meno bene di te ma a parte gli scherzi basta Silvio Silvio lascia finire dai Silvio Silvio fermati fermati un attimo facciamo una cosa eh va bene dopo 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 bravo ma l'importante è bene vedere che almeno uno si interessa e dicevo dove eravamo rimasti ah si che Russell ad un certo punto viene invitato negli Stati Uniti naturalmente è il grande professore e viene va prima di tutto a Harvard dove fa un ciclo di conferenze e poi lo invitano a fermarsi al City College di New York che è un'università meno famosa però sta a New York e lui comincia a fare questi corsi di matematica in un college che era per soli uomini no non nel senso che i corsi erano per tutti no ma non c'erano studenti studentesse femminili ciò nonostante questi studenti sono così entusiasti di questo professore che arriva e che a lezione ogni tanto si lascia scappare qualche idea di cosa dovrebbero fare gli studenti di cosa bisognerebbe fare nel caso della guerra eccetera che vanno a casa e lo dicono i genitori dicono ma abbiamo questo professore meraviglioso e qualcuno di questi genitori in particolare è il genitore di una signora di una ragazza che non era iscritta al corso perché l'università era appunto per soli uomini però viene a sapere che c'è in città quest'uomo di cui lui ha sentito parlare e di cui si dice che sia appunto questo libertino con queste idee fuori del comune e lo denuncia al tribunale gli dice quest'uomo è semplicemente un diavolo incarnato sta venendo a seminare zizzagna e a insegnare ai nostri ai nostri giovani cose che si dovrebbero tacere non può non gli si può permettere di essere un professore e benché la cosa di nuovo possa sembrare una cosa strana perché siamo nel 1940 in questo caso ormai è già scoppiata la guerra tra l'altro in Europa gli americani non sono ancora entrati però ormai non ci sono più i transatlantici che vanno avanti e indietro quindi Russell è bloccato in America non può tornare in Inghilterra perché nel frattempo appunto la circolazione marittima è stata fermata deve guadagnarsi da vivere in America ma non ha problemi essendo il famoso professore insomma l'ho processo e adesso non ho dietro ma tu la saprai in memoria la citazione del tribunale che con un ele ma sì no volevo gli aggettivi volevo di primo livello gli dicono tutta una serie di libertino anticlericale e così via e alla fine effettivamente lui viene condannato il collegio gli rescinde il contratto e lui si trova in America senza poter effettivamente più insegnare perché una volta che una università ti ha buttato fuori e c'è una sentenza di un giudice nessun altro si sogna di prenderti e il risultato è che non ha soldi non può tornare in Inghilterra e che fa? finalmente trova però un benefattore che era un miliardario diciamo così uno che aveva soldi e che in effetti l'ha salvato in questa situazione incresciosa e che cosa gli fa fare? Gli fa fare delle lezioni diciamo così in una specie di università privata in cui lui ha un contratto per un anno o due e dovrebbe fare la storia della filosofia cominciare a insegnare la filosofia dai presocratici fino ai tempi moderni gli fanno questo contratto lui comincia ad insegnare prende appunti comincia a leggersi i classici cosa che i filosofi spesso fanno però non sistematicamente magari invece no comincia ad andare in biblioteca non si legge i classici piano piano prende appunti e sta facendo queste lezioni finché questo miliardario che lui racconta nella sua autobiografia Russell dice era uno al quale più che altro gli piaceva bisticciare con la gente e soprattutto non gli pareva di avere Bertrand Russell sotto mano con cui poteva bisticciare ad un certo punto il miliardario lo accusa dice ma lei batte la fiacca dice io la pago e lei non lavora e così via finché alla fine lo licenzia pure lui e Russell dice ma come ma io sono qua che sto lavorando non sto facendo tutti questi questi studi sulla storia della filosofia che faccio e finalmente arriva il diciamo così il segno del tocco della fortuna perché un editore gli offre qualche migliaio di dollari dell'epoca ovviamente quindi una buona una buona cifra e dice ma guardi lei c'ha già gli appunti perché deve fare lezione dice li pubblichiamo come libri e decidono di scrivere questo libro che si chiama la storia della filosofia in realtà lui come titolo invece di storia della filosofia fa una cosa che nessun filosofo fa nemmeno i nostri nemmeno quelli che vengono qua a Misano in queste rassegne la chiama storia della filosofia occidentale lui sa che la filosofia non è soltanto occidentale cioè molti popoli hanno avuto filosofie però non è un trombone come cito solo morti come Severino per esempio il quale sosteneva che in realtà la filosofia è una cosa solo occidentale nessun altro popolo l'ha mai avuta ma come i cinesi gli indiani ma quello non è filosofia dice quello è religione oppure poesia solo noi abbiamo la filosofia Russell era di un tipo diverso lui dice no io racconto la storia della filosofia occidentale gli altri racconteranno la propria e scrive questo libro che effettivamente diventa un grandissimo successo anzi diventa il libro che è il suo più grande successo venderà milioni di coppie praticamente se ne farà poi anche un'edizione ristretta che si chiama La saggezza dell'Occidente e quando poi gli daranno il premio Nobel per la letteratura citeranno proprio questo libro per dire ecco questo è un esempio di come si può raccontare in quel caso la storia della filosofia in una maniera che sia accattivante però anche corretta dal punto di vista storico e scientifico cioè lui tra l'altro la racconta come se fosse uno di loro dice ci siamo noi filosofi Platone Aristotele Tommaso da Quino Cante e io e io parlo con loro come se li intervistassi e poi in tutto questo libro a differenza di quello che di solito si vede nei libri di testo lui dice questa cosa è giusta questa è avuta una buona idea questo è completamente sbagliato perché io la penso diversamente e così via quindi un'opera che ancora oggi si riesce naturalmente a leggere molto bene e qui c'avete un'altra faccia ancora del Russell l'uomo cioè prima c'era il divulgatore scientifico e qui invece c'è addirittura lo storico della filosofia ma non basta perché alcuni dei suoi libri più importanti poi in realtà parlavano d'altro e in particolare ce n'è uno che uscì poi negli anni 50 nel 57 dopo che lui prese il premio Nobel tra l'altro è inutile che vi racconti le storie del premio Nobel ma c'è un aneddoto interessante perché lui il Nobel lo prese nel 50 aveva quasi 80 anni 78 anni e due anni prima l'avevano invitato a Stoccolma dove si dà il premio Nobel forse per sondare le cose e lui era andato in aereo e l'aereo era caduto nel mare del nord e quest'uomo che aveva 76 anni si era salvato a nuoto 19 persone erano morte in quell'incidente e lui si salvò a nuoto facendo due chilometri nella baia e poi naturalmente dopo qualche giorno andarono i giornalisti a intervistarlo all'ospedale e ci avevano un filosofo che era stato in punto di morte allora volevano sapere quali erano i pensieri del filosofo che stava per morire gli dice il professore dice che cosa pensava mentre nuotavano verso la salvezza e lui rispose da tipico inglese che l'acqua era gelata perché cosa cavolo vuoi pensare mentre sei lì che nuoti e così e soprattutto da quel momento fino a quando poi morì vent'anni dopo continuò a sostenere e dice che a me mi ha salvato il fumo perché lui era ovviamente uno di questi inglesi che fumavano la pipa e sull'aereo qualcuno di voi forse ha ancora volato sugli aerei in cui c'erano il reparto fumatori e il reparto non fumatori non ho mai capito cosa volessero dire perché spesso il reparto fumatori erano la fila dall'1 al 10 per dire e dall'11 indietro era non fumatore sì ma il fumo no vabbè comunque a parte quello che forse poi se lo sono chiesti e allora era o tutto fumatorio o niente adesso è niente i non fumatori li avevano messi nella parte diciamo così dietro dell'aereo e quando l'aereo cadde tutti questi quelli che morirono erano fumatori perché erano stati dietro il fumo li aveva ammazzati il non fumare e invece Russell diceva io che invece ero fumatore stavo nei posti davanti mi ha salvato appunto il fumo non faceva propaganda per queste cose questo era per dire che tipo che era Bertrand Russell ma negli anni 50 appunto ormai diventato famoso come pensatore e come matematico premio Nobel per la letteratura scrive nel 1957 o 59 non ricordo più un libro che si intitola Perché non sono cristiano ora la cosa interessante questo è un titolo abbastanza forte uno potrebbe dire chi se ne frega cioè tu non sei cristiano e allora io posso scrivere perché sono cristiano ma lui insomma racconta i motivi per cui dal suo punto di vista non si poteva essere cristiani voi leggete quel libro è un libro molto molto strano mi sono dimenticato di dirvi una cosa che adesso posso dire che quel famoso libro di cui ho parlato agli inizi di introduzione alla filosofia matematica che mi aveva cambiato la vita ad un certo punto in Italia era uscito fuori commercio perché era un libro vecchio appunto del 18 poi comunque ristampato un sacco di volte alla fine non era più in commercio e agli inizi del 2000 io avevo cominciato a fare anch'io divulgazione e qualcuno gli erano venute le idee che avevo certe idee la notizia che avevo anch'io alcune idee non proprio diverse da quelle di Russell copiate da lui naturalmente lette sui suoi libri e un giorno l'editore mi disse la longanesi che aveva i diritti delle opere di Russell in italiano mi disse i libri di Russell sono tutti fuori catalogo ormai dice perché non cominciamo a ristamparli gli ho detto benissimo dice da dove dovremmo cominciare secondo me dalla introduzione alla filosofia matematica che è un libro che può cambiare la vita a qualcuno e l'editore mi disse perché non fai la prefazione e infatti l'ho fatta e oggi se voi prendete quell'edizione lì della longanesi c'è il libro ecco la mia prefazione questa è una bella rivincita ma poi da quel momento in avanti l'editore decise di cominciare a stampare a ristampare altri libri di Russell e quindi facendomi fare le prefazioni quindi io ho fatto la prefazione matrimonio morale ho fatto la prefazione alla bc della relatività eccetera e quando poi mi disse adesso cosa facciamo come nuovo libro io ho detto ho detto qua è il momento buono facciamo perché non posso essere perché non sono cristiano lui mi dice va bene ok e naturalmente io l'avevo letto da ragazzo questi libri quindi ogni volta che dovevo fare la prefazione li rileggevo e li rileggevo da uomo non dico maturo perché quello non sono mai diventato ma comunque con più anni di quelli che avevo quando li avevo letti per la prima volta e la cosa strana è che quando l'essi perché non sono cristiano mi sembrò un libro disuguale diverso dagli altri infatti lo era non era un libro organico in cui lui affrontava l'argomento della religione perché non essere religiosi dal punto di vista scientifico o logico o razionale pensi era una serie di articoli e di conferenze che lui aveva fatto in giro per il mondo oppure pubblicato in varie pubblicazioni e infatti l'ho detto all'editore gli ho detto ma l'ho riletto adesso quando l'avevo letto da ragazzo mi aveva aperto gli occhi però oggi mi sembra un po' passato e l'editore mi disse ma perché come l'avresti fatto io sarei partito in maniera sistematica leggendo la Bibbia facendo vedere che cosa c'è che non va bene non soltanto raccontando aneddoti e l'editore mi disse perché non lo fai allora e gli ha detto un minimo di senso delle proporzioni e gli ha detto no no fallo e infatti io ho scritto poi un libro che si intitola perché più precisamente non perché io non sono cristiano ma perché non possiamo essere cristiani e tra parentesi e meno che mai cattolici chiusa parentesi e quello fu il libro in effetti il mio libro più di successo quello che vendete di più che però era ispirato a questo libro di Bertrand Russell a me aveva molto colpito quest'uomo che appunto diceva chiaramente di non credere diceva chiaramente che Gesù poteva essere anche un grande personaggio ma che lui dubitava della sua esistenza addirittura dell'esistenza di Gesù ovviamente non della propria e che alcune delle cose che c'erano scritte nei Vangeli che fossero vero o false erano delle stupidaggini per esempio il famoso miracolo in cui c'è l'indemoniata e arriva Gesù e dice ai diavoli che stanno dentro questa indemoniata dice toglietevi da dentro di lei mettetevi in questo branco di porci che stava passando e allora questi diavoli escono dal corpo di questa qua si mettono entrano nel corpo di questi porci e questi porci corrono e vanno a finire dentro il lago e annegano e uno dice ma se uno fa un miracolo perché deve fare il passaggio attraverso i porci cosa ne potevano questi qui che c'erano i diavoli lì e poi crediamo a queste cose e così via e quindi l'idea anche che Russell potesse essere questo anticlericale che poi alla fine del libro riporta il dibattito che lui fa alla radio alla BBC insieme a un vescova anglicano cioè l'ateo il libero pensatore che dibatte col prete col vescova addirittura e che poi si mettono così e questo è stato naturalmente per me un'ispirazione che infatti poi ho cercato di imitare al meglio facendo il dibattito col papa con Benedetto XVI quindi sempre per dire che racconto Russell ma in realtà racconto un maestro personale di uno che mi ha ispirato direttamente siamo ormai dicevo agli anni 50 ed è il momento per Russell di tirare le fila della sua vita avrebbe ancora vissuto per una quindicina d'anni quella era la fine degli anni 50 come avevo detto è morto nel 1970 lui scrive la propria autobiografia ma nel frattempo è ritornata la guerra questa volta non è ritornata in Inghilterra non è più la prima guerra mondiale che gli inglesi combattono direttamente bensì è la guerra che combattono gli americani contro il Vietnam bravo l'ho detto prima di lei stavolta stavolta l'ho battuta sul coso negli anni 60 e Russell fa una cosa straordinaria perché all'epoca non c'era ancora il tribunale internazionale dell'AIA per i crimini Silvio fermati non c'era ancora il tribunale dell'AIA come c'è adesso voi sapete che tra l'altro il tribunale internazionale dell'AIA non è riconosciuto dalle grandi potenze per esempio non si può processare un presidente americano per crimini di guerra perché gli Stati Uniti non riconoscono la giurisdizione del tribunale non lo si può fare per la Russia per la Cina e così via quindi il tribunale internazionale finisce poi di essere semplicemente una caricatura processa gente come Milosevic per esempio i pesci piccoli ma i pesci grandi non lo può fare per esempio Bush figlio e Blair che sarebbero ovviamente finiti sotto le stesse regole che avevano condannato Milosevic non si possono processare ma all'epoca si era ancora prima di questa parvenza di tribunale internazionale e Russell istituisce lui questo suo tribunale personale che si chiama proprio così il tribunale Russell che fece udienze pubbliche in cui invitava i testimoni vietnamiti si faceva raccontare i crimini di guerra che gli americani compivano in Vietnam poi ci fu una condanna ma naturalmente quella era una cosa puramente formale che potere aveva questo tribunale non poteva certo andare a prendere il presidente americano e metterlo in galera questo tribunale poi continuò per molti anni si chiamava continuò a chiamarsi tribunale Russell e processò per esempio i crimini di guerra o meglio i crimini interni che fecero i colonnelli in Brasile e uno un italiano divenne presidente del tribunale Russell l'Elio Basso che forse ti ricordi così e quindi anche da questo punto di vista diventò importante perché Russell ormai era diventato un punto di riferimento al punto che nel 62 quando ci fu la crisi di Cuba cercò lui di fare da mediatore vedete in questi tempi in questo anno di guerra in Europa avete visto alcune persone che hanno cercato di diventare mediatori alcune poco poco credibili tipo Erdogan oppure il Papa Papa Francesco che ha detto che sarebbe disposto ad andare a Kiev se lo fanno anche andare a Mosca e così via e Russell all'epoca faceva lui isolatamente pensate quindi il potere che poteva avere da un punto di vista morale semplicemente quest'uomo che ormai era più di ottantenne poi alla fine divenne novantenne e che scriveva direttamente scrisse durante la crisi di Cuba a Khrushchev da una parte e a Kennedy dall'altra e quell'anno fu nominato basta andare a vedere sul sito della fondazione Nobel una ventina di volte nel 1962 per il premio Nobel per la pace la cosa divertente è che lui prese il premio Nobel per la letteratura con una nomination soltanto nel 1950 nessuno l'aveva mai nominato prima e poi quell'anno lì lo nominò uno e glielo diedero e qui invece una ventina di persone lo nominarono e non glielo diedero invece e voi direte ne aveva già preso uno ma successe altre volte per esempio Linus Pauling un famoso chimico che prese il premio Nobel per la chimica e poi dopo qualche anno prese il premio Nobel per la pace ma Russell aveva fatto anche un'altra cosa importante per la pace ed era nel 1955 lui racconta e questo vi fa anche capire un po' il tipo che era perché naturalmente era un po' tolemaico cioè un mondo che gira spesso attorno a lui che fa un po' la parte del sole e lui racconta dice ero su un volo che andava da Roma a Parigi era il 1955 aprile del 1955 e il comandante dice ai passeggeri dell'aereo è morto Albert Einstein anche questo fa capire che importanza poteva avere uno come Einstein oggi difficilmente si darebbero questo notizio lo si direbbe è morto un calciatore è morto il principe eccetera ma muore Einstein e il pilota lo dice e Russell dice ebbe un colpo al cuore uno dice certo lo conosceva bene erano amici no gli aveva appena scritto una lettera e non aveva ancora risposto e dice è andata male però non era soltanto una lettera così la cosa sarebbe stata di poco interesse era che Russell nel 1955 aveva pensato di fare un movimento degli scienziati contro la bomba atomica e qui vi dico due parole di quello che è successo a proposito della bomba atomica perché la bomba atomica ovviamente è un ordigno tecnologico che poi i politici usano hanno usato ma che è stato costruito dagli scienziati ovviamente e qui si pone il problema la scienza deve fare queste cose deve costruire delle armi che poi vengono date ai politici che poi le usano ovviamente per fare del male ai propri nemici e viceversa il problema è che la bomba atomica fu costruita negli anni 40 perché si temeva e si pensava che avrebbe potuto costruire anche Hitler e naturalmente tutti sappiamo com'era Hitler e questo era un grosso pericolo e fu Einstein stesso che nel 39 nel 40 scrisse due lettere famose al presidente Roosevelt dicendo guardi che ormai la fisica atomica è arrivata a un punto dopo che si era scoperta ovviamente la fissione nucleare l'avevano scoperta anche i tedeschi tra l'altro il primo esempio in realtà Otto Hahn fu lui il primo a capire queste cose e Einstein scrisse appunto al presidente americano dicendo guardi che qui siamo in una situazione che se non la costruiamo noi potrebbero arrivare loro prima e potrebbe essere la fine di tutto e non sembra che poi dal punto di vista storico questo sia stato dirimente perché poi il presidente Roosevelt decise di fare la bomba atomica ma per altri motivi fu un altro scienziato un informatico in realtà Vannevar Bush che non è parente ovviamente degli altri Bush uno dei padri dell'informatica che lo convince mentre invece le lettere di Einstein insomma sembra non abbiano avuto questo questo grande effetto e comunque rimane il fatto che ovviamente allo Salamos si riunì questo gruppo in cui c'erano praticamente tutti gli scienziati più importanti dell'Occidente e i più bravi e si misero a lavorare alla bomba quello che successe che è molto interessante ed è anche inquietante è che tutti questi dissero andiamo a farlo perché non vogliamo che i nazisti la facciano prima di noi è una specie di azione difensiva un deterrente far sapere che anche noi avremo questa bomba ma nel 44 quando ormai la Germania stava cominciando a perdere la guerra i servizi segreti inglesi mandarono delle spie in Germania e queste dopo un po' tornarono dicendo che avevano fatto il giro dei laboratori e avevano chiesto in giro e così via ed erano sicuri che in Germania non si stesse costruendo la bomba atomica e la cosa interessante è che in realtà poi in seguito si seppe che così era effettivamente nel senso che alla fine della guerra poi agli inizi del 45 i servizi segreti ritornarono in Germania la Germania ormai stava perdendo la guerra e rapirono gli scienziati tedeschi li portarono in Inghilterra e li misero dentro diciamo agli arresti domiciliari questi non erano militari quindi erano semplicemente con guardie intorno a questo palazzo ma senza dir loro che questa era piena di cimici nel senso che era piena di microfoni e tutto il giorno le conversazioni che questi scienziati facevano fra loro venivano registrate all'epoca era 1945 quindi non c'erano i mezzi di oggi venivano registrate su dei dischi praticamente come se fossero del vinile e poi venivano sbobinate a mano così e leggerle vi consiglio di leggerle perché è una cosa molto istruttiva si vedono questi scienziati che per esempio il giorno in cui scoppia la prima bomba atomica il 6 agosto del 1945 a Hiroshima lo sanno lo vengono a sapere dalla radio e poi cominciano a parlare fra di loro e dicono ma abbiamo capito bene dice ma gli scienziati occidentali hanno fatto quello che noi ci siamo rifiutati di fare per il Führer cioè hanno costruito questa bomba e non solo gli americani l'hanno fatta scoppiare dice ma ma dov'è questo mondo hanno cominciato a dire ma le cose sembrano rivoltate al contrario queste registrazioni si chiamano sono tradotte in italiano si chiamano operazione Epsilon e sono appunto molto istruttive tra l'altro due giorni dopo lo scoppio della prima bomba atomica Heisenberg fa un seminario per i fisici che erano appunto i fisici tedeschi diciamo rapiti e imprigionati in cui spiega quali sono i principi della bomba atomica cioè che significa che ovviamente li aveva pensati e non gli arrivavano sicuramente nel giro di due giorni semplicemente così quindi uno deve ripensare un pochettino a come la storia viene raccontata a come effettivamente le cose sono andate chi ha avuto le proprie responsabilità eccetera ma facendo appunto questo passo indietro di qualche mese quando i servizi segreti per la prima volta dicono che sono sicuri che non si sta facendo la bomba in Germania allora ovviamente questo lo comunicano allo Salamos e gli scienziati che sono lì vengono a sapere e dicono guardate che i tedeschi non lo stanno facendo e uno che cosa penserebbe dice bene allora ce ne torniamo a casa perché stiamo facendo una cosa tremenda la facevamo solo perché la facevano perché la facevano loro ma se loro non la fanno noi ce ne andiamo e invece uno dice queste cose si chiamava Josef Rothblatt non molti di voi forse l'hanno sentito nominare era un giovane polacco che era emigrato in Inghilterra quindi sicuramente non era un nazista era scappato dai nazisti e dalla Polonia e lui dice no scusate se le cose stanno così io ero venuto per quel motivo e allora me ne vado fu trattato da traditore ovviamente gli fu impedito di dire tutto quello che sapeva al di fuori venne tagliato fuori appunto da ogni contatto e anche lui venne poi a sapere dopo qualche mese dalla radio che in realtà la bomba era poi stata costruita ed era stata usata ora dopo la guerra molti scienziati cominciarono a avere dei dubbi per esempio Einstein disse se avessi saputo che i tedeschi non la stavano facendo non l'avrebbero fatta io non avrei mai mandato le due lettere lui non andò a lavorare allo Salamos primo perché era un teorico era un fisico teorico quindi il suo contributo probabilmente non serviva in quel momento quello che poteva fare l'aveva già fatto con le sue formule compresa la famosa E uguale a MC2 che in realtà sta alla base della bomba atomica e molti altri cominciarono a avere dei dubbi e quindi nel primo dopoguerra gli scienziati cominciano a dire ma forse dovremmo essere noi che abbiamo costruito questo orgoglio tremendo a dire non usatelo non fatene altri evitiamo la proliferazione e quello che Russell di cui Russell si dispiaceva in quel volo tra Roma e Parigi era che aveva appena scritto un manifesto che aveva mandato ad Einstein perché lo firmasse Einstein era lo scienziato più famoso del mondo e Russell dice lui è morto io la firma non l'ho ricevuta e ovviamente questo manifesto non avrà l'impatto che io volevo che avesse ma poi arriva all'albergo a Parigi e c'è la lettera di Einstein quella è l'ultima firma che Einstein aveva fatto l'ultimo suo atto pubblico tre giorni prima di morire e Russell è sollevato dice bene e quello si chiama il manifesto Russell Einstein o Einstein Russell a seconda di come lo dicono i giornali ed è un manifesto in cui appunto c'è una specie di dichiarazione contro l'energia atomica usata a fini bellici Russell continua e dice questo è soltanto il primo passo non è soltanto che noi vogliamo mettere delle firme e poi lasciare che voi facciate quello che volete riuniamoci noi scienziati e cerchiamo di incidere sulle politiche dei nostri governi e allora chiede in giro chiede passa il tempo naturalmente era il 55 arriva il 56 chiede a Nehru che era il presidente indiano e l'India era un paese non allineato non faceva parte di nessuno dei due blocchi gli dice possiamo farla Delhi questa nostra conferenza e diventerà nota poi come conferenza di Delhi Nehru dice di sì ma purtroppo siamo nel 56 ad un certo punto arriva la crisi di Suez come molti ricorderanno gli inglesi attaccano Suez invadono l'Egitto insieme ai francesi scoppia il patatracti nuovo e Nehru dice scusate ma c'è altro da fare che fare le conferenze eccetera un miliardario credo Onassis forse dice a Russell che è disposto a farglielo fare ma a Monte Carlo la conferenza Russell dice no per favore questa è una cosa seria noi andiamo a Monte Carlo e diventiamo tutti dei burattini e allora alla fine accetta la proposta di un signore canadese che era nato in un paesino che si chiama Pugwash nel Canada e si fa questa prima conferenza degli scienziati contro l'atomica a Pugwash da allora quello diventerà noto come il movimento Pugwash Russell è il presidente ovviamente il segretario è questo signor Rothblatt che ho citato prima questo polacco scienziato fisico che aveva rifiutato di continuare le ricerche contro l'atomica e la cosa interessante è che poi nel 1995 40 anni dopo il movimento Pugwash e il suo presidente cioè Rothblatt prenderanno il premio Nobel per la pace metà per uno metà al movimento e metà a questo scienziato che era stato considerato un traditore e che invece poi diventa appunto un po' un simbolo di come gli scienziati dovrebbero comportarsi Russell appunto come vedete aveva agito diciamo così su tutti questi campi cioè contrario alla guerra nella prima guerra mondiale finisce sei mesi in galera contrario alla bomba atomica e fonda il movimento Pugwash contrario alla guerra in Vietnam e fonda il 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 tribunale Russell è felice come una Pasqua quando nel mi sembra nel 67 nel 68 fa una manifestazione con gli studenti a Trafalgar Square contro gli americani e contro la guerra in Vietnam e viene finalmente di nuovo arrestato a 90 anni ed è felice come una Pasqua si fa una settimana in galera lui e sua moglie ha coronato di nuovo dice sono tornati in galera naturalmente ci sono le vignette sui giornali in cui ci sono tutti questi ladri eccetera che stanno in galera insieme a lui e la didascalia dice chi è il cervello della banda con Russell con i suoi capelli bianchi e così via e questa è la fine della sua vita perché ormai come avevo detto lui morirà nel 1970 ma rimangono i suoi libri rimane questo suo lascito per esempio oggi io sono sicuro ci metterai la mano sul fuoco anche perché intanto non la posso perdere visto che non mi posso smentire che oggi per esempio sarebbe sicuramente contrario non alla guerra di Putin contro l'Ucraina ma al coinvolgimento di tutti coloro che soffiano sul fuoco perché questa guerra ci sia e perché hanno fatto sì che ci fosse soprattutto per creare le condizioni che ci fossero quindi vi consiglio di leggere alcuni dei libri che vi ho citato forse non l'introduzione alla filosofia matematica che è un libro un po' tecnico a meno che non siate interessati appunto alle questioni di matematica ma matrimonio morale sicuramente vi fa vedere quanto si possa essere all'avanguardia cent'anni fa oggi che quelle prospettive gli anticoncezionali lui addirittura ce l'aveva anche con i tradimenti perché molti di noi pensano che sia una questione molto di avanguardia dire facciamo la politica di genere vogliamo i matrimoni fra omosessuali e così via ma se notate i matrimoni anche fra omosessuali o fra bisessuali o fra trans eccetera sono sempre fatti fra due persone ora la cosa interessante da un punto di vista matematico è che l'Istat ci dice che in Italia per esempio coloro che non sono eterosessuali cioè tutti coloro diciamo non binari come vengono chiamati adesso arrivano al 4% della popolazione cioè omosessuali bisessuali transessuali gender fluid e così via 4% della popolazione se uno guarda l'esposizione che queste cose hanno sui media sembrerebbe che quello fosse uno dei problemi principali mentre invece riguarda una piccola minoranza è ovvio che i diritti delle minoranze sono esattamente quelli che bisogna tutelare perché altrimenti si rischia che la democrazia diventi una dittatura della maggioranza non è questo il problema ma se uno guarda i rapporti Kingsey che si sono fatti negli anni 50 e poi tutto quello che è successo dopo si scopre che tanto per cominciare e questo che chiedete al vostro medico di fiducia dal 15 al 20% dei figli nati non sono in Italia non sono del genitore che vive con la mamma ora la cosa è abbastanza interessante perché 15% è una grossa siamo ma qui uno dovrebbe dire una ventina di noi una trentina di noi magari dice papà ho i capelli rossi com'è che tu hai i riccioli neri eccetera e allora uno si potrebbe chiedere ma forse il vero problema quello che veramente toccherebbe negli anni 70 si è visto che per esempio il divorzio invece era una cosa molto diversa perché quello sì che toccava la maggioranza della popolazione perché chiunque si sposa poi prima o poi della moglie o del marito insomma adesso possiamo felicemente separarci e divorziare ma fino al 1970 in Italia non era possibile e quindi il divorzio ovviamente passò con un'enorme maggioranza che non era quella dei partiti che lo stavano proponendo perché interessava a tutti ma oggi e questa è una cosa che Russell direbbe tranquillamente che invece nessuno dice e nessuno scrive sui giornali la maggioranza delle persone probabilmente ha due tre famiglie qualcuno proprio quelli che se lo possono permettere per esempio tanto per fare nomi Scalfari aveva due mogli una ufficiale l'altra non due famiglie con figli separati eccetera viveva cioè s'arrangiavano passando da una all'altra ma moltissimi hanno matrimoni con amanti eccetera e il rapporto King si è accorso negli anni 50 quando ci si è accorso che i numeri non combaciavano perché si erano fatte queste indagini chiedendo a uomini e donne tra l'altro se tradivano il proprio partner e gli uomini in gran maggioranza dicevano di sì e le donne in piccola minoranza dicevano di sì ora uno dice scusate con chi lo tradiscono quelli che lo tradiscono da questa parte le cose non funzionano e allora si è capito poi che alla fine tutti e due i sessi esagerano solo che gli uomini esagerano a dire che sì dicono certo 25 amanti eccetera e le donne esagerano no nessuno eccetera però a parte gli scherzino ora questo sì che sarebbe progressismo provare a dire ma allora magari è forse la monogamia che non funziona perché i rapporti devono essere a due perché se si è tra adulti consenzienti perché poi è sempre questa la formula no se si è fra adulti consenzienti e tre vogliono vivere o quattro eccetera credo che fosse Dumas che diceva no che le catene del matrimonio sono così pesanti che a volte bisogna essere più di due a portarle no e questo è una di queste cose no quindi sono sicuro che ci manca uno come Russell no che queste cose le dica e vedremo se prima o poi diventeranno anche loro leggi tra l'altro la cosa sorprendente è che certi paesi già la poligamia ce l'hanno è vero che per esempio la poligamia islamica non è esattamente quello che uno penserebbe no perché sono solo gli uomini che possono avere più donne allora lì la cosa uno deve accettare e dice certo o magari una donna che ha più mariti e così via oppure le comuni questo negli anni 60 di nuovo a volte si ricorderanno che a volte si viveva in comune e ci sono anche delle società naturali di cosiddetti selvaggi che a volte fanno così cioè i figli sono in comune nel villaggio e non si sa chi siano i padri oppure si vede a volte ma comunque non si sa ufficialmente ma vengono allevati dalla comunità e non dalle singole madri quindi noi crediamo di essere tanto progressisti perché ogni tanto abbiamo questa apertura ma poi tutto sommato non è che lo siamo tanto quindi forse un libro come Matrimonio Morale dove e questo è il motivo per cui l'ho citato queste cose vengono citate anche perché lui come avevo detto l'ha scritto quando sua moglie stava col bisessuale dal quale poi ha avuto un figlio eccetera era costretto volente o nolente a farsi vedere molto aperto per esempio anche il libro sul cristianesimo perché non sono cristiano eccetera e quindi leggete Bertrand Russell fatevi istruire da lui e per ora se qualcuno ha qualcosa da dire no è il momento è la tua occasione bene visto che questa bella serata siamo arrivati verso le 11 diciamo di chiudere sento una voce là Silvio per cortesia posso dire una cosa prima che tu faccia la domanda quelle domande lì sono sempre come quando uno comincia la conferenza e dice mi sentite ma ti sentono solo quelli che intanto è inutile che ti dicano di sì tu volevi sapere se quelli che non ti sentono ti sentono ma non puoi dire mi sentite e qui è uguale non avete un microfono e se è quello a cui lo devi chiedere ah ti è arrivato il microfono eccolo ok Pier Giorgio ti volevo chiedere questo allora quando Russell ha 28 anni che siamo nel 1900 ed è a Parigi la domanda Silvio va bene fammela introdurre come faccio lui è a Parigi e a Parigi ci sono due congressi uno della filosofia e uno della matematica lui viene sicuramente influenzato da Giuseppe Peano volevo sapere quanto influisce Giuseppe Peano è un docente di Torino di Cuneo di Cuneo di Torino di Spinetta quanto può aver inciso in lui sulla questione della logica beh no lui lo dice lui Russell lo dice molto chiaramente nell'autobiografia racconta di quel momento quello tra l'altro fu un momento storico proprio per l'umanità o perlomeno per l'Europa perché era il 1900 ci fu il congresso internazionale di filosofia e quello di matematica subito dopo ma in realtà la cosa importante è che era il 1900 era l'anno della Ville Lumière fu il momento in cui Parigi venne illuminata a giorno dalle prime lampadine praticamente che già c'erano prima ma non si erano mai viste in quel modo lì fu un anno straordinario ci fu la mostra degli impressionisti per esempio si costruì il Grand Palais il Petit Palais la stazione del treno dove oggi c'è la mostra degli impressionisti a Parigi eccetera quindi era un anno straordinario e fecero i due congressi di filosofia e di matematica Russell che all'epoca era un filosofo si iscrisse solo a quello di filosofia però c'era a quello di filosofia anche qualcuno che era matematico in particolare quello che tu hai citato Giuseppe Peano che era un famoso matematico un po' pazzerello che stava a Torino tra l'altro anzi in realtà era nato proprio nella città dove sono nato io a Cuneo a Spinetta lì vicino che era molto noto come matematico e come filosofo della matematica un po' meno ma aveva aveva delle strane idee perché anche lui voleva costruire questa lingua universale alla maniera di Freghe come vi ho citato agli inizi questa ideografia il Begriff Schrift e aveva fatto una sua versione che poi fu quella che Russell in realtà imparò e Russell racconta dice sono andato a questo congresso avevo 28 anni non conoscevo nessuno ero lì diciamo tutto titubante e durante le discussioni ogni tanto si alzava quest'uomo con questa barba bianca che era Peano appunto e dice che tutti lo stavano a sentire ed era sempre quello più preciso e Russell disse dopo la conferenza sono andato lì e gli ho chiesto maestro non è che lei abbia dei preprint come si direbbe oggi delle coppie dei suoi lavori e una volta si faceva così ci si portava dietro una valigia le coppie stampate dei lavori lui gliele diede e Russell dice sono andato a casa e si è messo a studiare sono messo a studiare ed è lui poi Russell che ha non solo mutuato l'ideografia di Peano però la resa popolare l'ha anche un po' modificata e migliorata e quindi oggi il linguaggio della matematica è il linguaggio di Peano anche grazie a Russell ma se posso racconto un addenduto che forse non sai di Russell che è divertente perché fa anche capire che tipo che era lui Russell era uno che ne abbiamo parlato bene stasera come si meritava ma era uno che diciamo aveva un ego molto grande diciamo per non dire smisurato e racconta io mi ricordo che ero ragazzo avevo letto la sua autobiografia e raccontava dice un giorno è venuto un indiano da noi a Cambridge e questo indiano era Tagore non so se voi conoscete questo famoso poeta Tagore aveva un barbone così era alto due metri si vestiva con questi sai era un poeta mistico che aveva preso nel 1913 il premio Nobel per la letteratura ma Russell all'epoca se lo sognava il premio Nobel per la letteratura era un giovane e quindi dice sono andato a sentire questo poeta mistico che è idealista e dopo la conferenza sono salito sul palco mi ricordo che leggevo sulla sua autobiografia e dice e gli ho fatto una bella lezione contro la metafisica eccetera non so per qual motivo questa immagine mi era rimasta impressa nella memoria passano gli anni perché questo doveva essere nel 1970 circa quando io leggevo quelle robe lì mentre facevo l'università dopo una ventina d'anni mi capita di essere a Calcutta viaggiando così in India e vado a visitare l'università di Calcutta che è un enorme campus e poi guardando sui De Pliang scopro che questo campus era la casa di Tagore che lui aveva regalato all'università perché Tagore era veramente un possidente poi pensate cosa poteva essere un possidente in India all'epoca e mi ritorna in mente questo aneddoto dico ma guarda tu mi ricordavo di questo nome di Tagore perché avevo letto l'aneddoto di Russell che gli aveva fatto la lezione eccetera e allora mi viene in mente e dico ma non sarà che Tagore ha anche raccontato le cose dal suo punto di vista e vado in biblioteca dove c'erano tutte le biografie di Tagore guardo Russell e Tagore racconta dice sono andato a Cambridge ho fatto una conferenza dopo la conferenza sale sul palcoscenico un anerottolo con una voce chioccia così perché Russell parlava così dice che si è messo a blatterare di qualcosa e dice e io dopo un minuto sono salito in uno stato superiore di coscienza e uno si immagina Russell di sotto che gli fa la lezione così e quell'altro che manco lo sta a sentire questo è per dire come a volte le cose siano così uno che invece stava a sentire Tagore e che Tagore stava a sentire era Einstein che abbiamo citato quindi se andate in rete per esempio io le trovo impressionanti le immagini di Tagore e Einstein insieme perché vedete due uomini che appartengono a due culture diverse Russell è vestito e in India vestito con la giacca il panciotto il cravattino perché così si faceva una volta Tagore vestito con il suo solito saio che teneva anche in Inghilterra e però in una di queste foto tutti e due stanno guardando l'obiettivo a me vengono i brividi quando guardo quegli sguardi di quei due uomini che attraverso l'occhio che ti puntavano addosso probabilmente ti fulminavano e ti trapassavano e pensare che cosa si possono essere detti ci sono nella biografia di Einstein scritta da País i resoconti però sono così approssimativi di ciò che due uomini così come Einstein e Tagore che andavano molto oltre le loro discipline uno un fisico e l'altro un letterato e filosofo però sapevano in realtà pensare qui sì che sarebbe stato bello vederli e starli a sedere però invitarli se riesci magari con un tavolino di quelli cerchiamo di evocarli una sera bene leggiamo Russell che il termine romerita grazie ancora Audi Freddi l'appuntamento è per venerdì prossimo grazie